Salve a tutti ragazzi e benvenuti assieme in questo nuovo video di Ninja Bleed! Bene, andiamo pure avanti dove erano rimasti! Vai, avvia missione! Scicchi la bio, dai ma sciomassì! Vediamo un pochettino, vediamo come va... Eccolo ci dicono! Wow! Oh cazzo! Ups! Questa è la regina? Fatta passare la volanza! Mamma mia, fate un macello! Un vero macello! Mamma mia! E come cazzo l'ho batto quello? Ma quello sembra il padre di... Oh cazzo! Eh! Salve! Ah, siamo a posto! Ok, un secondo solo! Eccomi qui! Allora, andiamo! Cosa fare? Distruggi... L'infezione! Eh, come cazzo la distruggono l'infezione? Ah, ci provo! Ah, ci provo, eh! Non è che, insomma, sia così convinto di riuscirci! Ok! Dove mi dice qualcosa? Mi dice che c'è... Boh, non si capisce! Oh, salve! Ma quanta bella gente! Ok! Mamma mia! Cavoli! Perol! Ma che guida? Bah! Vabbè! Dai, dai, dai! Sì, che sono pronto! Sono preparato! Eh, insomma, sì! Mamma mia! Che brutta gente! C'è gente, insomma! Così! Oh, cazzarole! Adesso questi? Ok! Beh, se sono vicini, vicini! Ci fa anche bene! Ok! Beh, buono mi sta dando! Oh, cazzo! No, no! Scusate! È perché dovevo prepararmi un attico! Se apri la boccuccia! La boccuccia piccolina! Apri la boccuccia! Apri la boccuccia! La boccuccia, vai! Che l'apri qui! Pum! Cazzo, quasi! Potevo prenderla due volte! Vediamo un po' la boccuccia aperta! Vai! Ok! Carichiamo, va! Che è meglio! Beh, dai! Per adesso il vermone lo sta prendendo! Per la boccuccia, bravissimo! Quasi due volte! Eh, vabbè, dai! Piano piano lo prendiamo! Devo anticiparlo leggerissimamente! Vai! Vai! Ok! Perfettico! L'ultima volta! Forse! Vediamo un pochino! Vai! Bravissimo! Oh! Andata! Perfettico! Beh, dai! Non è andata male! Male! Insomma, ci hanno messo abbastanza bene! Che bella cosa! Spacca tutto qua! Spacca tutto! Spagli esplodere tutti! Insomma, sì! Che bella coscia! Non so se ce la farò tutti, però insomma sì! Forse uno l'ho mancato! Forse anche due! Sì, ma è troppo veloce, figliolo! Eh, bisogna dirtelo! Eh, che cazzo! Mi ho danneggiato! Eh, ok! Ok! C'è tanta gente! Non so come prenderli! Ok, ok! Beh, meglio di niente! Dai, un po' li prendo! L'importante è prenderli! Poi dopo, se non li prendo tutti, a me non so! Cazzarola, però quanti siete! Cioè, porca miserica! Non riesco più a prenderli, devi girarti, se no non lo prendo io! Questi qua, insomma sì! E vuole di rompere i coglioni, vero? Pum! Oh! To! To! Eh, non lo prendo! La maledizione! To! Oh! Bella coscia! No, qui facciamo così, facciamo prima ragazzi! Ecco qua! Facciamo così! Così! E così! Oh! Faccio decisamente prima, se no è un casino con... Olè! Oh! Io li sto prendendo però, sei stronzo! Se mi fai esplodere tutto! Li sto prendendo anche bene, neanche dire che li prenda male! Ok! Perfettico! C'è qualcuno che mi sta prendendo, perché io prendo delle gran botte, ma non vedo nessuno! Salve! Lei è molto bello, lo sa, gli ha mai detto nessuno? Un bel sorriso, poi soprattutto... Eccolo qua, ed eccolo qua! Oh! Due volte! E purtroppo c'ho anche i parassiti qua, bastardi che... Eh, non ce la faccio! Già mi faccio! Ho fatto prendere un colpo! Porca miserica! Li prenderò! Oh! Bello! Eh, adesso... Per aspettare il momento propizio... Eh, porca miserica! Però c'è i propri bastardi! Eh, non lo prenderò mai! Ok! Oh, salve! Oh! Quanti paletti li ho? Tredici! Andiamo così, due colpi! Ok! Da che ci siamo quasi! E anche il veicolo ci siamo quasi! Mi è mezzo bagattato! Eccoli qui! Ok, è andata! Bene, bene, bene! Da che forse ce la facciamo? Mamma mia! Mi ha fatto fuori via! Ma sei un figlio di puttana, eh! Bisogna dirtelo! Cazzo! Dammito, figlio! Non puoi andare fuori così! Che ci devo fare, ragazzi? Ci posso fare mica tanto, eh? Vabbè! Non è che potevo usare i miei dikit nel... Nel... Nel giubbotto, lì, come si chiama? Insomma, avete capito, dai! Io ho fatto il meglio che potevo! Troppo, sti cazzo di stronzi non li posso prendere! Come faccio? Non me li fa a prendere! C'è lenti a loro! Ok! Un po' bastardo, sto gioco, eh! Non so ne dirlo, eh! Che ha fatto un po' a cazzo, però... Sempre bello, eh! Ok! Perché io qua non li faccio un cazzo! Ah, no, così non li faccio! Ma va a fanculo, dimmelo prima, no? Io aspettavo che tu ti alzassi e ti aprissi! Eh, va a fanculo! Ok! Andata, sto co... Cazzo, cazzo, qua riesco a prendere! No, non ce la farò mai! Mi sta seguendo all'infinito! Vediamo un po' Vediamo un po'... Oh, succede qualcosa ad un certo punto o sto sempre in aria? Chi è lì? Niente, ho riflesso! Mamma mia, la città è devastata, ragazzi! Guardate qua! È messa proprio malo malo! Capisco l'infezione, però... Questa non è infezione, questa è devastazione! Eh, vabbè! Oh, cazzarola! Salve! Molto piacere vederla! No, 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 no! Sto prendendo in faccia Mi dispiace non volevo farle ma Si 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 Non so se sto facendo effettivamente qualcosa Ma Sembra che il mio veicolo Sia ancora intatto Ok Cioè quindi devo ammazzare lui Come lo ammazzo Mi sta tirando un grattacielo Ma porca vacca Ok L'ischirò anche a prenderlo Porca vacca Ok Vedo un cazzo questo me lo trovo all'improvviso vero Eh si lo immaginavo insomma si Ok Basta hai lotto i coglioni insomma si Ma che cazzo Ancora Accidenti a te Adesso così mi tiri che sono due passi da te Lo tira lo stesso Accidenti a lui Ok Cioè mi hai tirato tutto quanto Ma che Si Io cosa devo colpire adesso Lui quello Non lo so mica Eh non lo so Io provo lui ma Non mi dai niente Non mi dai Spendiamo bene ragazzi Perché qui ci tocca prendere una mazza Come al solito il gioco Parla bene bene Parla proprio bene Eh vabbè Ok Speriamo Prendere lo sto prendendo Però non so effettivamente se gli stia facendo qualcosa Mi dice Vedete il countdown dei colpi va Il counter dei colpi Oh Ce l'ho fatta Se no mi tirava un gratisciolo Cioè tutto L'isolato mi tirava No no non è come sembra E che cazzo E che cazzo Fantasfer Genki dam Oh porca troia Ecco vai Schiva Vediamo Vai Vai Porca troia E adesso chi guidava l'aereo Quello si è sbattuto Ma io salto Mi se ne frega E siamo a posto L'asso finale Ma non hai tanto tempo Il countdown ha iniziato Ma no Ancora un countdown Oh cazzarola Ah si è salvato il tipo Meno malo dai Cazzo però Io devo arrivare lì Salve È un piacere vedervi Mamma mia Che palle Ok Vediamo cosa c'ho Questo qua No 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 Non ci provare proprio Mi scusi che devo fare così Assolutamente Non è che qui c'è qualcosa Non c'è un cazzo di niente Allora vediamo come poter fare Devo usare queste armi qua Va bene Qui c'è qualcosa Io devo anche guardare in giro Ok Non ho potuto leggere ragazzi Mi dispiace tanto ma Ok No 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 Sì Ok Ok Ciò si chiama di evitare Di schivare Di fare tutto il possibile Che mi è Possibile fare ragazzi Perché qui non è cazzo facile Lo dico proprio col cuore Come cazzo Arrivo là Devo trovare un metodo Per arrivare là Che sia Da esseri umani Ok Perfettico Ok Ok Scusate Non mi fa Oh mamma mia L'ho rischiata grossa Ok c'è qualcosa qui Non so se Si è caduto Effettivamente Qualcosa là Oh che bella coscia Oh no Di nuovo un muro da rompere Ok Gennata Questo è il primo livello Dove abbiamo iniziato il tutto Oh che bella cosa Scarica di adrenalinica Allora Stesso discorso Vero E infatti Allora Mamma mia che palle Ok ci siamo Andiamo via Perché qui mi sta Per venire Dosso tutto Ok Vediamo cosa Ecco Almeno così siamo a postolo No 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 Sì 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 Vediamo un po' Quanta bella Roba c'è Spero di trovare Un potenziamento Qualcosa ragazzi Perché la vedo Proprio brutta Salve Non aspetti un attico Oh Oh Ancora morto Cazzo Sono forti qua Ok Andata What the fuck Cosa è che ha detto Pum Pum Eh ma va Nuro Ok Perfettico Che cazzo ha fatto Ma cos'è Scemo questo Oggi Gli ha dato Le dito volte Il cervello Allora Ok Vediamo se c'è qualcosa Non c'è niente Quindi andiamo Alla spadina E andiamo qua Cazzo per poco Eh ma preferisco che mi prenda lì Che mi prenda qui Insomma sì No aspettate un attico Va Guardate tutti qui Che meglio Ok Arrivo 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 Da voi No 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 Aspettate Fate qualcosa Insomma Ok Andata Ma no 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 Aspettate Porca vacca Ma è una corsa Conto il tempo Ragazzi Io già la posso fare Ok Andiamo Speriamo che non mi sparino Vai Eh adesso No Così Che sfiga Ragazzi Che sfiga Mi è entrata l'altra combo Eh porca troia From software Mi sono bene Allora Ok Eh Adesso è stata così Ok Andata Ok andiamo via Vai Cavolo Scusate ma devo assolutamente Vedere se c'è qualcosa Che può interessare Figuriamoci se c'era Questo qua Dai basta Fate combo di merda Cazzo Quando inizia Non smette più Eh ragazzi Non ci può Interrompere una combo Non c'è niente da fare E io Ho un po' Un attimo di Di problemini qua Se mi fai le combo Siamo finiti Eccoci qua Vai Perfettico Le mettiamo Le nostre vecchie spar Eh Adesso ti sembrano I coglioni Ok E vai Perfetto Madonna questa Corsa contro il tempo Mi ucciderà Ma vaffanculo Va Eh niente più C'è Eh che cazzo Però eh Dai Perfetto Completamente a caso Eccoci qua Ok Andiamo Devo prendere questa Ragazzi Non si sa mai Qualche può essere Ecco qui Ok Andata Mamma mia Che tragedia Qui facciamo un po' di Togliamo un po' di roba Aspettiamo che Che spassi questo coso È un bel cacacoglioni Comunque bisogna dirglielo eh Ok Sembra tanto una Un'arena questa Speriamo che mi sbagli Ok Eh Chissà perché Voi adesso ditemi Come cazzo faccio A battere sto cacacazzi Con quello che mi spara Con questo qui che fa le cose Porca vacca Ecco qua Ok 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 Vai Ah che forse qualcosa Riesco a fare Ok è andata Mamma mia ragazzi È una corsa contro il tempo eh Ovviamente non è morto Perché bisogna matarli sempre 800 milioni di volte I boss qui I mob Eccetera Ah è morto Grazie Molto gentilo Oh Oh cazzo Cazzo ma siete ancora qui voi Io dicevo che non avete morti Ok Scusate Cerco di fare più che prima che posso Purtroppo non è che sia Via 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 Oh Vediamo che qui c'è qualcosa Non mi sembra ci sia niente Qui posso salire In teoria si Ah così Ok Allora aspetta Aspetta Ok Qui così E qui così Ahia Ho fatto malo Ho fatto tanto malo Ok Scusate Ma va Fanculo Quando parte così Gli deve venire un colpo nel culo Guardate Che cazzo Dove cazzo glielo fa andare Fanculo va Aspettiamo eh Prendiamo un po' di energia Vediamo che esploda Ok Data Prendiamo tutto Perché a me mi serve A me serve A me mi serve Guarda che italiano Vai Affanculo vai Affanculo vai Cazzo E lento come la diarrea Però porca troia Eh Affanculo va Ok Così Andiamo così Se no Fidiamo più Va va Fanculo va Ah beh Si ucciderò anche tra di là Mi fa più Questo lo potrei usare A mio vantaggio L'ho capito solo adesso Scusatemi ma È una tensione incredibile Perché non è che sia Così proprio facile Facilo Si ma cazzo però eh Sei proprio un idiota Vabbè Aspettiamo Qui non c'è niente vero Non mi fa salire Ok Vai 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 Facciamo così E poi così Oh Poi così È l'unica eh ragazzi Se no questi qui Rompono i coglioni Fini all'esasperazione Andiamo qua Facciamo così Ok Allora proprio tutto Oh glielo ho tirato in niente Mi sta bene questo Ok No no Aspetti un attico Intanto facciamo così E vediamo se lui mi spara qualcosa Non dubito Vediamo se da qua spara Perché non posso rischiare ragazzi Non sparo un cazzo Vabbè Ok Ovviamente è andato nel casino Ah fanculo va Allora Vai Cazzo ragazzi Devo far veloce Eh Vabbè Fanculo va Cazzo Porca troia Ma Scusate ragazzi Ma cazzo è un casino incredibile Devi fare un pochino meglio la cosa Vai Ok Così Perfetto C'è qualcosa Fai il pronto soccorso Quanti ne abbiamo Otto Perfetto Andiamo pure avanti Vai così E vai così Sarò arrivato ormai Oh Cazzo Adesso ti sfragano però eh Se riesco a capire come si fa la boss fight eh E ci vuole anche questa Ti detti a lui Allora Facciamo così Ok Ok Questa Solicita evitarla Vediamo pure Adesso arrivo anche da te Devo vedere Assolutamente se ho Qualcosa che può servirmi Perché se C'è anche un adrenalina o qualcosa Che adesso userò Perché Non posso andare avanti così Allora Prima devo capire come colpirlo Poi usiamo l'adrenalina Andiamo Facciamo così Devo colpire I suoi guanti Ok Non li sto facendo un cazzo Beh in teoria si Ah ho capito Ah ho capito Eh no Non mi piace sta cosa Cambiamo arma Alla prima colazione Eh si Aspetta un attico Aspetta un attico Mi stai facendo fiamme Non mi piace la cosa Ok Perfettico Si è fatto malo Ok Possiamo Proviamo ad usare l'adrenalina Vai L'adrenalina dovrebbe darmi Molto più danno Vai Perfetto Ok Adesso devo solo capire Come colpirlo Ok Non è qui Ma vaffanculo Va Eh si ma siete proprio Dei pezzenti siete Eh Però bisogna dirlo Ecco qua Adesso Adesso mi finirà Perché te sei uno stronzo E blablabla Dai insomma Abbiamo capito Ecco qua Eh vaffanculo Dai Prendilo Ok Qualcosa Non gli sto facendo un cazzo Però insomma Dai vieni qua Ok Non lo sto prendendo Ragazzi Non lo sto prendendo Ok Tocca far così Ok Meno male che l'ho potenziata Sto spada ragazzi Ma meno male Ok Ok Vai Sfraganalo Ti botte proprio Danni ne tante Mamma mia Vai così Perfetto Ok Ok Qualcosa sto prendendo Non so se effettivamente Gli sto facendo qualcosa Però Tanto Gradito Se ti smetti di fare combo Dai vai via Così li ammatti tutti Dai ne ammazzali Perfetto Non ne ammazzate neanche uno Ok Scusate E vai Ok Li ammazzo così Non ho tempo Ho bisogno di fare in fretta Ok Andata Qui ce l'ho ancora la spadona Si ce l'ho ancora Vediamo se riesco a prendere un po' di vita Perfettico E adesso vediamo cosa fai Cazzo Non lo sapevo Non lo sapevo sta cosa Purtroppo ragazzi Non lo conosco Che bello così Sono immune Ok Andata Vaffanculo Ok Rieschiamo di prendere E fargli male Più che possiamo Quando capisco Come prenderlo Perché quello è il problema Di base Che devo capire Come prenderlo Che non sono Difficili boss Bisogna solo capirli Quello è il problema Diciamo Che più Mi da fastidio Ok Riesco a vedere Quanto ha Insomma Ok Ok Vai 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 Ok Quanto mancherà Staccato di mano Beh non manca tanto Dai Ok 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 Niente Non ho fatto un cazzo Benissimo Dai lo sto prendendo Lo sto prendendo Questo è l'importante Ok Andiamo Vai Non lo prendo Non lo prende Per il culo Ok Preso Adesso mi farà Un altro attacco Perché questo gioco È famoso Per i boss Si muoiono E lui fa un altro attacco Mi sembra ovvio Ok Vai Fatto Mamma mia Che ansia X Ci sarà Y Tanto cosa vuoi che ci sia A Schiva Cazzo Scusate Proprio in tempo Y Vai Oh Nell'occhio Poi Cos'altro Anche schivata Mamma mia Mi ha sfraganato Cazzo Che botta Eh certo Ovvio Ok Beh Intanto Ho preso un po' di soldi L'ho accecato A un occhio Mamma mia Quanta brutta gente E sono pieno di energia Cosa che Molto gradita Ok Perfettico Devo andare lì Ah Devo stare attento lì Ok Tutto Tutto Claro Posto Va bene ragazzi Franniamoci qua Se no Faccio un video di 8 mila Miliardi di minuti Tanto è tutta una boss fight Questo Livello Quindi ragazzi Io come al solito Vi invito a lasciare un like Come vedo se vi piace la serie fa Mi so bene cosa ne pensate E per adesso Vi do un saluto a Shiba Ciao ciao